Dopo la morte di William Wallace, Robert DeBruce cercò una volta per tutte di rivendicare il trono di Scozia. Per molti anni combatté e per molti anni perse e venne braccato come un animale, da inglesi e scozzesi. Ma un giorno radunerà un nuovo esercito e combatterà ancora. Questo è il giorno che noi tutti aspettavamo. Gridate che è tempo di liberare la Scozia! Io sono re Robert DeBruce. In prima visione, Robert DeBruce, guerriero e re. Martedì alle 21.20, Rai 4. La guardi, la vivi.